Bene, questo è un video che è fuori dagli schemi e dai programmi abituali del canale. Perché vi do una notizia che non saprei trattenere neanch'io per l'emozione. Un imprenditore italiano che ha acquistato delle proprietà qui in Spagna, aprendo e pulendo un capannone, ha trovato una Dino Fiat. La Dino, progettata dalla Ferrari per il figlio di Dino Ferrari e poi prodotta anche dalla Ferrari. Quindi noi ora faremo il restauro di questa macchina. Il restauro verrà filmato e trasmesso puntata per puntata sul canale e sarà un piacere farlo. Considerate che, e qui lasciatemi inorgoglire un pochino, è da molto tempo che non si restaura una macchina di questo genere perché nella versione Fiat ne furono prodotte poche. ma è anche la prima volta che un canale YouTube riesce ad avere la gestione e a registrare tutte le fasi del restauro di una macchina di questo genere dal ritrovamento fino alla fine. Ora iniziamo con questo video di presentazione del progetto e iniziamo con un pochino di storia sulla Dino Ferrari che io vi racconterò e vi leggo ora. Dunque, è preso da ruote classiche, quindi è la storia ufficiale, classica, semplice. La Fiat Dino nasceva come modello, a sé stante, nella gamma Fiat. Fu frutto di un accordo fra Enzo Ferrari e la Fiat per lo sviluppo di un motore per la Formula 2. Nel 1965 il regolamento per l'iscrizione in Formula 2 prevedeva che la vettura in gara fossero dotate di un motore con frazionamento fino a sei cilindri e con un massimo di un litro virgola sei di cilindrata derivato da modelli di serie. Non avendo Ferrari nella sua gamma niente di simile si rivolse alla Fiat per definire un accordo commerciale. La Fiat, dal canto suo, intendeva sviluppare un'erede per la sua 2003 S Coupé un modello dalle linee eleganti e dal temperamento sportivo. Entrabbi ne avrebbero guadagnato e così prese parte il progetto Dino. Le Dino, l'ingegner Giancarlo Bussi progettò un nuovo propulsore in alluminio con tre carburatori doppio corpo Weber dotato di accensione elettronica il sistema venne realizzato dalla Magneti Marelli e indicato come Dinoplex. Tuttavia la cilindrata di un litro virgola sei limitava molto questo tipo di macchina tanto che dopo quando la Ferrari abbandonò voglio stringere un pochino la dichiarazione e la storia quando la Ferrari abbandonò la Formula 2 non avendo più questo vincolo la macchina, la cilindrata salì e dalle mani di Marcello Gandini e di Giorgetto Giurearo uscì questo disegno questa macchina questa macchina che nella versione Fiat coupe decapotabile bella 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 con soluzioni per l'epoca veniristiche mi sono stupito stamattina quando mi sono accorto che la pompa della benzina era già elettrica in quel genere di anni e comunque la macchina ha avuto una storia parte dalla storia triste del figlio di Enzo Ferrari e ha avuto poi un'evoluzione la macchina ha una quotazione abbastanza stabile si aggira intorno ai 500.000 euro di valore e è una macchina molto ricercata perché come dicevo all'inizio del video ne sono state prodotte molte poche ora questa macchina è stata ritrovata in condizioni stupende lo vedrete dalle foto che vi presento in questo video alla fine di questo video vedrete scorrere le foto io vi presento questo progetto così come sta nascendo poi dopo lo seguiremo passo a passo la macchina verrà trasferita in Italia nei prossimi giorni e a Milano i migliori specialisti si alterneranno per il restauro quindi sceglieremo le persone più adatte a restaurare la carrozzeria la tappezzeria il motore la parte elettrica della macchina voglio che questo restauro sia fatto veramente bene voglio che la macchina risulti completamente originale avrete modo di seguirlo pezzo a pezzo con tutti i filmati di tutte le sue parti quindi non tralasceremo niente avremo moltissimo video girato e saranno filmati probabilmente più lunghi del solito ma spero che vi facciano piacere questa è una storia italiana e riportandola alla vita noi riportiamo alla vita un pezzo di storia la macchina è ferma dal 1980 quindi gli interventi dovranno essere abbastanza consistenti parlo di tutte le parti in gomma di tutte le guarnizioni parlo di una pulizia completa del motore anche se dalle foto che ho potuto vedere fino ad ora è in condizioni ottimali in ragione degli anni che ha naturalmente però vogliamo riportarlo alle condizioni pari al nuovo proprio per oltretutto la macchina non ha molti chilometri quindi abbiamo la possibilità di sviluppare un bello oggetto più avanti renderemo noto anche il proprietario che per ora rimane riservato e la macchina sarà un progetto e sarà una cosa che farà capo solo a questo canale i video relativi e le foto relative non saranno scaricabili dal canale e non verranno distribuiti a nessun altro canale quindi le potrete vedere soltanto qui saranno un patrimonio nostro e solo nostro adesso vi lascio alle foto del canale della macchina e parliamo anche di quella parte lì beh come potete vedere la macchina è stata già portata da un meccanico per una prima pulizia la macchina è in ottime condizioni voi osservatela così ma pensate che è una macchina che è ferma da più di 40 anni in un capannone dove non era certo protetta dalla polvere dai topi da tutto quello che poteva disturbarla queste foto sono state scattate dal proprietario da chi l'ha ritrovata e fanno vedere che alcune parti si sono conservate in maniera stupenda tipo questi cavi delle candele ricordo che la macchina aveva già l'accensione elettronica qui passiamo a una prima visura delle parti il motore conserva ancora olio dell'ultimo cambio pensate un pochino la pelle è tutta recuperabile il cruscotto è interamente recuperabile non ha rotture se non piccolissime e comunque di un intervento facile la parte elettrica sono buone a guardare queste sono buone le parti meccaniche è lo stesso qui è ripresa un'altra volta dall'esterno sempre la macchina dall'esterno la chiavetta di accensione e poi il pulsante di contatto una delle ruote probabilmente la ruota di scorta il cassetto la macchina la pulsantiera con i comandi della climatizzazione queste macchine non sono più